La telecamera di videosorveglianza è ben visibile, così come la parabola di collegamento radio delle immagini al centro di controllo del nucleo decorurbano della Polizia Municipale. Anche i cartelli sono alla luce del sole, eppure questo non scoraggia gli abbandoni indiscriminati di rifiuti a bordo strada. Qui siamo in via Cilea, nella zona di Contrata Serraspiga, periferia ovest di Cosenza. Questa volta, però, ad essere immortalato dalle fototrappole non è uno dei tanti cittadini allergici alla differenziata. Il furgone appartiene ad una ditta e gli pneumatici non sono certi il frutto di un cambio gomme fai-da-te, eseguito magari per risparmiare qualche decina di euro. I copertoni, ancora qui in attesa che l'amministrazione espleti le procedure di avvio allo smaltimento, sono di marche variegate e misure diverse. Il sospetto, dunque, è che dietro questo episodio possa celarsi una filiera parallela a quella correttamente gestita dai rivenditori. Se gli pneumatici vengono importati illegalmente, venduti senza rilascio di documenti fiscali, smaltirli attraverso i canali autorizzati, diventa impossibile. L'alternativa, allora, è mollarli al primo angolo di strada disponibile. Il fenomeno a Cosenza è cresciuto nelle ultime settimane. Per risalire ai responsabili, gli agenti del nucleo decoro urbano, dopo aver individuato alcuni depositi di gomme destinate alla distruzione, le hanno contrassegnate durante la notte, con alcune macchie di vernice spray, annotando per ogni colore utilizzato la provenienza. Il sistema, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe funzionato a dovere, consentendo anche di redigere e consegnare una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica. Salvatore Bruno per la Cineus 24